Eccoci ora negli spogliettori delle squadre che ha vinto Oh Pilato, è un grande Pilato Questo ti ha dato la Nasa La Nasa ti ha dato Genoa 1-1 Cerci Cerci Allora Vai ragazzi Ho preso alcuni sui regni, ho tutte le palle Durante il video puoi mettere io Ho un apparato 1, ho un apparato Dioci Oh raga è qui Raga è segnato Per noi con il numero 10 Andrea Valenti Andrea Valenti Andrea Valenti Va, 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 va Ha segnato Con il numero 7 Riccardi Non ho sbagliato Non sapevi quale si chiama Vincenzo Vincenzo Riccardi Vincenzo Riccardi Riccardi Ho segnato per noi il nostro capitano Con due e tre Ore Here GARA! 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 Eeeeeee c'era io! Allora tutti si deve mani che si vede... Assembleato! Assembleato viene! Con il numero 15! Si vuole! Si vuole! Si vuole! Si vuole! Si vuole! Si vuole! Pietro! Pietro! Fai il lungo tesseramento anche! Vittorio Livers è tutto! A voi la linea! Direttamente dal centro! Vittorio Livers è tutto! A voi la linea! Direttamente dal centro!